In questa fase se tu rifiuti da una parte scarichi maggiori problemi su un'altra, quindi sono semplicemente dell'iniziativa spot quello che sto vedendo, è come l'idea di sparare ai barconi o trovare nel Mediterraneo l'isola che non c'è, mi fa anche ridere Salvini, però noi dobbiamo affrontare i problemi concretamente, quindi per ora siamo una nazione solidale con i suoi concittadini di altri comuni, però sia chiaro, le emergenze sono tali perché durano poco, qui l'emergenza si è strutturata ed è diventata una forma di finanziamento pubblico ai partiti, con mafia capitale ci mangiavano i partiti.